Siamo a Crotone con un gruppo di ragazzi milanesi, sono qui per aiutare nella socialità e nell'umanità della zona. Cosa può dire al riguardo? Da luglio fino al 12 agosto Crotone ospita i campi di Libera contro le mafie e state liberi. Loro sono il terzo campo e ce ne sono già stati altri, ne ce ne saranno tanti altri. Ed è molto importante per Crotone la partecipazione a dei campi di Libera all'interno dell'intera comunità. I ragazzi, i giovani dei gruppi di volontariato di Libera che vengono a Crotone servono per fare tutto ciò che come associazioni, enti, cooperative, come comunità di Crotone noi facciamo già ogni giorno. e quindi svolgono diversissimi servizi al centro istivo Zia Mariù, in housing da me, alla mensa di Padre Pio, in chiesa, al castello Carlo V e tantissime altre parti dove proprio c'è bisogno con i migranti, con chi è del territorio, quindi veramente tantissimi servizi. Sono ospiti in housing e già questo è un servizio, quello che vivono ogni giorno perché insieme a loro abitano anche, loro condividono l'housing con le ragazze che a Crotone in housing da me vivono tutto l'anno e fanno i loro percorsi di autonomia che hanno scelto di condividere questa esperienza insieme e quindi sostengono anche questo loro percorso. È il primo gruppo che fa queste attività? No, non è il primo gruppo, loro sono un gruppo di onoratorio di Milano, ci sono gruppi già organizzati o gruppi misti di singoli che vengono e si scoprono insieme, anche si conoscono insieme, quindi già chi si conosce e chi non si conosce che viene appunto a Crotone a fare questo campo di libera che è un po' diverso da tutti gli altri campi di libera che si tengono sul territorio nazionale, solitamente i campi di libera si tengono in zone e in territori confiscati alla mafia. Qui a Crotone non si tiene in un bene confiscato, anche se comunque in questo caso di da me social housing è comunque un bene diciamo riqualificato, siamo alla Marina, quindi insomma è veramente un'opportunità di riqualificazione, ma in generale offrono servizio alle loro mani, il loro tempo, la mattina alla sera, proprio a tantissimi servizi. Grazie.